ciao a tutti ragazzi sono giacomo bentornati sul mio canale youtube e lo sapete cosa sono finite le vacanze purtroppo le vacanze finiscono ma spero che voi siate ancora lì sulla spiaggia magari state guardando questo video e fate un bagno che per me nel caso appunto lo siete perché sarò sicuramente invidioso vabbè ma io sono qui in studio quindi oggi di che cosa parliamo parliamo di jaber jaber che torna con un protettore davvero interessantissimo perché ha delle particolarità che dovete assolutamente vedere rimanete con me perché alla fine del video faremo anche una comparativa tra il v9 di jaber che avevo già recensito vi lascio qui sopra nelle schede appunto il video e questo k2 che è davvero davvero interessante quindi rimanete con me perché unboxing poi come sempre ne parliamo insieme anche di pregi e difetti un po' di più A presto. A presto. Perché due telecomandi? Perché questo proiettore ha un dangle integrato ed è una cosa davvero strepitosa, infatti non vedo l'ora di farvelo vedere, ma ecco qui il telecomando del dangle che è questo qui. Questo qui invece è il telecomando del proiettore, guardatelo qui, molto molto classico, poi sempre all'interno della confezione ho trovato due cavetti, uno per l'HDMI che è fatto in questo modo e uno per appunto la corrente che è il classico attacco che hanno più o meno tutti i proiettori. Anzi c'è anche un terzo cavetto AV che questo viene sempre messo che è un attacco RC per le solite diciamo i vecchi device tipo delle camere vecchie che hanno questo aggancio, lo potete attaccare tranquillamente. Poi all'interno del brand kit che cosa ho trovato? Una cosa molto molto interessante e ve la faccio subito vedere a parte questi due puscolini qui anche il certificato di garanzia che guardate con questo qui voi andate sul sito praticamente di Yaber scansionando questo QR code e attivate una garanzia di tre anni completa sul prodotto. Davvero molto molto interessante e insomma fiducioso da parte di Yaber, tre anni di garanzia. All'interno della confezione è anche questo kit per la pulizia perché come sapete questi proiettori sono soggetti a elettricità statica quindi attirano abbastanza polvere e se vi capita che le lampade si sporcano con questo potete entrare e insomma pulirle. Leviamo questi qui da qui davanti tanto non ci servono più e andiamo un attimino a vedere come è fatto questo proiettore. Sulla parte anteriore Yaber la scritta centrale molto molto bella è anche in rilievo e la pulsantiera accensione e spegnimento più o meno per il volume. La modalità notte interessante perché fa meno rumore e anche meno luminosità perché di notte se è troppo troppo luminoso allora a quel punto dà anche fastidio. Qui la possibilità di cambiare la modalità musicale e l'NFC quindi prima cosa particolare oltre alla modalità notte che ritengo piuttosto interessante ha particolarità che questo proiettore ha NFC. Che cos'è l'NFC per chi di voi non lo sa? Beh è quella tecnologia che utilizziamo per pagare con i nostri cellulari quella della contactless per capirci. Stessa tecnologia all'interno di questo proiettore che ci permette appoggiando il nostro cellulare sul proiettore o mettendolo sul soffitto nel caso lo avete soffitto che magari in quel caso diventa un po' scomodo di condividere immediatamente lo schermo. Poi vi faccio vedere esattamente come funziona perché è davvero molto molto comodo. Nella parte posteriore troviamo tutti gli ingressi partendo dall'ingresso qui che è l'ingresso AV, l'ingresso cuffie, poi abbiamo l'ingresso USB Type-C e l'USB Type-A. Oltre ovviamente all'ingresso HDMI che ci permette di collegare qualunque cosa vogliamo. Qui un sensore per il telecomando quindi un sensore IR che troviamo anche guardate nella parte anteriore. Ci sono due sensori qui e sono uno appunto il secondo IR e l'altro invece per la modalità di messa a fuoco e di Keystore automatiche. Infatti questo proiettore ha messa a fuoco e Keystore appunto mi ripeto automatiche. Leggete qui GBL, infatti questo proiettore ha cassa GBL all'interno. Cosa che lo rende davvero interessante perché ha un audio che io su un proiettore, ne ho provati 5-6, non avevo mai sentito ma davvero mai. Nella parte sinistra invece qui abbiamo appunto la nostra lampada, come vedete qui c'è la lampada che appunto ci permette di proiettare sul muro appunto il nostro video. Parte sinistra e destra piuttosto semplice, qui c'è una griglia per l'aria, per la fuoriuscita dell'aria e qui invece un tessuto molto carino con questa scritta del colore classico di Haber. Da questa parte ancora tessuto e qui una scritta K2S che è proprio il nome del proiettore. Sulla parte posteriore non vi avevo fatto vedere che da questa parte c'è l'ingresso per la corrente e questa qui che è la griglia d'ingresso, cioè quella che aspira l'aria per poi buttarla fuori dagli altri lati, ha appunto un pulsantino qui che premendolo si apre. Come vedete, andiamo se riesco a farvelo vedere. Quindi si apre, andate appunto a toglierlo ed ecco lì che potete pulire perché all'interno c'è un piccolo filtro di modo da non fare entrare troppa polvere. Poi cos'altro di questo proiettore? Beh lo dobbiamo assolutamente girare perché nella parte inferiore innanzitutto troviamo questo qui che è un piccolo piedino, vediamo se la luminosità riesco a farvelo vedere. Schiacciando guardate si allunga, potete comunque regolarlo quanto volete, non come la solita vitina che dovete svitare e abitare. Questo lo alzate, lo mettete a posizione, poi lasciate il pulsante e lui rimane esattamente lì. Dov'è, interessante. Poi vediamo qua sotto che cos'altro abbiamo, le due casse GBL, come vi dicevo, infatti è in modalità stereo questo proiettore. Oltre a avere l'etichetta ovviamente per quanto riguarda il modello. Poi vi dicevo che all'interno di questo proiettore c'è un dangle, infatti poco fa vi ho fatto vedere il suo telecomando. Come vedete c'è YouTube, Netflix, Google Play. Cioè è veramente interessante il fatto che all'interno qui ci sia già un dangle perché non avete alcun tipo di problema, se volete vedere Netflix, se volete vedere YouTube, perché è tutto già inserito. Ed è un dangle che ha 7000, pensate, applicazioni. All'interno della confezione trovate anche la confezione del dangle che è vuoto ovviamente perché il dangle, vi faccio vedere qui, che è già montato all'interno del proiettore. Eccolo qua, lo vedete proprio in questa zona, qui per toglierlo basta sollevare questa, togliere questa spinetta e tirare fuori il dangle semplicemente in questo modo. Ed ecco lì che avete già fatto. Molto molto interessante perché questo dangle non lo comprate a parte ma è all'interno appunto della confezione appunto di Yabra, quindi questo proiettore. Bene, devo dire che per il proiettore credo di avervi detto davvero tutto, vediamo un pochino i dati. 800 ANSI LUMEN per questo proiettore, davvero molto molto luminoso per un proiettore di casa, ma come si fa a testarlo? Beh, ovviamente per me è impossibile testarlo, posso però, come vi dicevo alla fine, confrontarlo col V9 che ne ha 500. Dato tecnico importante, questo proiettore ha il supporto per il dobbio audio con le due casse interne di GBL, come vi dicevo, che hanno una potenza massima di 10 Watt. NFC, ve l'ho già presentato prima, che con un tocco ci permette di fare mirroring e qui, ahimè, devo darvi ovviamente la parte negativa di questa cosa perché se mettete a soffitto il proiettore, ecco lì che, ovviamente, come ben immaginate, sarà impossibile usare NFC, quindi nel mio caso ovviamente non lo utilizzerò. L'ho tarato proprio perché la volevo provare ma ovviamente non potrò utilizzarlo. La risoluzione massima del proiettore è Full HD 1080p a 60Hz con supporto 4K, quindi tranquilli che se avete una sorgente 4K potete inserirla tranquillamente, lui la legge farà una pascaling a 1080p. Date assolutamente da dire, c'è Wi-Fi 6.0 e Bluetooth 5.2 all'interno, quindi entrambi di ultima generazione. Un dato che ovviamente non va assolutamente tralasciato è la modalità silenziosa perché di notte davvero le ventole potrebbero dar fastidio. Lui è già abbastanza silenzioso di suo, più silenzioso del V9, che era a 45 decibel, adesso non ho questo dato di questo proiettore, magari se riesco a reperirlo poi ve lo metto sotto nella descrizione, però modalità notte che vi permette di diminuire ancora la luminosità delle ventole e di diminuire anche un pochino la luminosità, quindi proprio del proiettore, perché di notte potrebbe anche essere troppo forte e dare davvero fastidio. Proiettore che ci permette di proiettare appunto un'immagine dai 40 ai 200 pollici. Ovviamente io lo userò sempre a 200 pollici perché mi piace un monitor grandissimo, ma Jabber dichiara queste dimensioni, da 40 a 200. In questo range ovviamente non avrete problemi neanche a fare ovviamente la messa a fuoco automatica e anche il clean store automatico. Vi ricordo che il clean store automatico è tarabile, anzi il clean store è tarabile tra i più o meno 20 gradi diciamo sopra e sotto e destra e sinistra. Se vi state chiedendo, beh ma qual è il dangle che c'è all'interno di questo proiettore, ve lo faccio vedere, si chiama Ako Mini ed è appunto un Android TV, davvero 7000 applicazioni, quindi davvero tantissime, potete scaricare Netflix, Prime Video, YouTube, davvero tutto quello che vi serve e averlo direttamente a portata di mano senza nessuna applicazione, insomma di nessuna chiavetta esterna. Vorrei spendere due parole anche per l'NFC, per utilizzarlo dovete scaricare un'applicazione che si chiama eShare, praticamente sul libretto di istruzioni del proiettore, vi faccio vedere dove c'è anche la lingua italiana, quindi state tranquilli, non c'è nessun problema, avete le istruzioni, andate nel Play Store oppure nell'App Store e scaricate questa applicazione e scegliere. Seguite la procedura ed ecco lì che avete appunto sistemato il vostro cellulare per poter procedere appunto a utilizzare l'NFC. Ma vi faccio vedere in sovraimpressione quanto è semplice utilizzarlo, perché davvero vi basta appoggiarlo, cliccare qui sopra, cliccare su avvia ed ecco lì che siete già online, state già trasmettendo sul vostro proiettore e quindi condividendo il vostro schermo. Davvero, davvero molto semplice. Allora andiamo a vedere un po' i menu di questo proiettore, io spero si veda tutto bene perché è davvero difficile, lo dico sempre e lo ripeto, è difficile andare proprio a registrare praticamente un proiettore che proietta sul muro. Comunque, questo qua è il menu principale del proiettore, quando lo accennete vi trovate in questa situazione dopo alcune brevi spiegazioni. Abbiamo Android TV, HDMI, NFC, AV, gestione file che dove appunto se inserite una chiavetta con dei file potete andare a prenderli e a leggerli. Documenti perché c'è la suite office, quindi potete leggere tutta la suite office tranquillamente senza avere il computer. Nei temi è molto carino, potete andare a selezionare un tema diverso da quello che magari avete al momento. Questo ad esempio mi piace molto, selezioniamolo ed ecco lì che mi trovo con uno sfondo del proiettore cambiato. Molto bello. L'impostazione lo salviamo, lo lasciamo per ultimo. Qui abbiamo la modalità salvaschermo, anche questa molto carina, perché? Perché selezionandola, scusate ho schiacciato un doppio bottone, abbiamo la possibilità di mettere un salvaschermo a immagine, come vedete, oppure anche un salvaschermo ambiente, cioè diciamo un video che si muove di un sottofondo oppure di un, che ne so, di un ambiente di montagna, piuttosto che un ambiente di mare, come vedete, montagna. Molto bello perché potete metterlo come salvaschermo e quindi nel momento in cui parte lo salvaschermo parte in questo modo. E' anche bello proprio per un discorso di, come dire, estetico, ecco. Andiamo un attivino poi avanti, abbiamo la modalità silenziosa, come vi dicevo, attivabile anche da qui. Se la attiviamo, vedete, si scurisce un pochino il video, così si schiarisce. Bluetooth speaker, se ne avete ovviamente da connettere. Qua tutti i mirroring. Ovviamente ogni mirroring avrà una sua procedura. Per il mirroring Android, ad esempio, entriamo e qui c'è la procedura di collegamento. Ora non sto a farvele vedere tutte, altrimenti stiamo fino a Natale, ma comunque sia, con l'NFC, ad esempio, risolvete tutta questa situazione del mirroring, semplicemente con un tocco. Entriamo nelle impostazioni perché voglio farvi vedere la differenza. Vedete, qua c'è un menu a sinistra, mentre nel V9 il menu era assolutamente diverso. Abbiamo rete, Bluetooth, sorgente, proiezione, qualità immagine, suono generale circa. Circa che è tradotto davvero male, all'interno c'è informazioni di sistema, aggiornamento e ripristino di fabbrica. Partiamo dall'altro. La rete ovviamente è semplicemente il Wi-Fi, dovete collegarlo. Il Bluetooth, se volete appunto aggiungere qualcosa in Bluetooth lo potete fare. Sorgente, qui potete andare a selezionare le varie sorgenti. La sorgente di avvio, se volete per esempio che si avvia direttamente con Android TV, voi lo mettete qua, quando lo accendete parte direttamente. Comunque questo poi selezionate voi a secondo di quello che vi interessa. Sulla proiezione vi vorrei soffermare un attimo perché ci sono le varie modalità di proiezione. Tavolo anteriore, tavolo posteriore, scusate che è tradotto molto male. Questo qui è tavolino anteriore e questo qua, scusate, questo qua è tavolino sinistra, tavolino destra. Nel senso che se selezioniamo questo lui gira l'immagine da destra a sinistra per capirci. Invece il soffitto la gira sotto sopra e da destra a sinistra il soffitto posteriore. Vabbè, ve l'ho spiegato perché l'ha davvero tradotto molto male. Impostazioni di riproduzione, tastiera automatica, anche qua è tradotto molto male. In realtà questo qua è il Keystone, infatti se entriamo nel manuale vedete che è possibile. Vedete, io sposto a destra, lui va a destra, io sposto a sinistra, lui va a sinistra. Cliccando su ok, scendo, posso stringere, vedete a destra in basso, posso allargare. Insomma, posso andare veramente millimetricamente a regolare un po' quello che è lo schermo se non sono soddisfatto pienamente dell'impostazione automatica. Questo qua invece è il fuoco automatico, non sto neanche a farvelo vedere, se l'ho cliccata semplicemente c'è questo e poi fate su e giù e ovviamente potete regolare automaticamente il fuoco. Troviamo un attimo nell'impostazione perché così facendo sono uscito, sempre nella proiezione, poi l'impostazione di luminosità, qua potete andare ad alzarla ed abbassarla nel caso appunto vi interessa, ma piuttosto che fare questo direi che andare nella modalità silenziosa forse è più facile. Qualità di immagine ovviamente qua ci sono delle tarature, utente standard, vivida, naturale, abbiamo anche il colore temperatura, personale, cool, normale, caldo, secondo insomma di come preferite. Come vedete ci sono davvero tantissime impostazioni, anche la modalità audio, utente, standard, musica, film, ovviamente su utente personalizzabile e in generale abbiamo l'impostazione della lingua, la modalità di accensione e il salvaschermo che vi ho fatto vedere prima c'è anche nel menu. Allora ragazzi, siccome ogni promessa è un debito, inizio video vi ho detto di aver rifatto un confronto, a sinistra il Yaber V9, a destra sempre Yaber IK2S, cioè quest'ultimo modello. Come vedete il menu è completamente svecchiato, quello di sinistra si vede che è un vecchio menu, quello di destra invece è molto più smart, molto più carino, insomma davvero più bellino. Quali sono le differenze tra i due? Le differenze sostanziali sono che ovviamente il K2S ha confronto il V9 e l'NFC, che appunto nel modello precedente V9 non c'era, ha una maggiore luminosità, anche se a conti fatti forse forse non si nota neanche tanto, considerate che il V9 ha 500 ANSI LUMEN, mentre il K2S ne ha 800, dovrebbe vedersi abbastanza, ma non vedo proprio una differenza così atroce. Considerate che i due si rubano a vicenda luminosità perché tutte e due illuminano tantissimo. La differenza anche sostanziale, qui davvero c'è il mondo, ve lo garantisco io, anche se non riesco a farvelo sentire, suono del K2 davvero supera di mille volte quello del V9 e qui fidatevi, davvero fantastico. E poi ovviamente nel K2 c'è il supporto Dolby, mentre nel V9 non c'è. E poi cos'altro? Ovviamente la cosa base, cioè che a destra, quindi nel K2 abbiamo inserito il Dangle, dove andiamo appunto ad avere già all'interno tutta una serie di cose, insomma Netflix, YouTube, eccetera, senza dover andare ad applicare, diciamo, un'ulteriore chiavetta, come invece succede nel quello, diciamo, vecchio V9, dove però ovviamente se andiamo a selezionare HDMI 1, abbiamo anche qui la nostra chiavetta che ci permette, insomma, di andare ad utilizzare Netflix, Prime Video, Amazon Music, YouTube, veramente tutto, tutto, tutto. Vorrei farvi vedere la differenza tra i due, vediamo se riusciamo ad avviare qualcosa. Apriamo sul V9 Netflix e apriamo anche sul K2 sempre Netflix. Aspetta un secondo, non ci sto capendo più niente con tutti questo miliardo di telecomandi, ma comunque per capirci, ecco lì, entriamo nel mio account, come vedete davvero, quello di destra si si vede che è leggermente più luminoso, ma vi assicuro che la differenza è davvero, davvero, davvero poca. Proviamo a mettere lo stesso film, qua vedo Ghostbusters, ok, facciamoli partire insieme, vediamo se siamo fortunati, facciamoli partire tutte e due, giusto per capire e vedere un po' la differenza tra i due. Come vedete sono davvero tutte e due molto luminosi. Quello di destra, come vedete, guardate la scritta Sony come è più luminosa piuttosto che il V9. Quindi quei 300 lumen in più effettivamente si vedono, come vedete qua è abbastanza palese, si vede molto bene, e quindi che dire, dai, questi 800 lumen credo ci siano, magari se non sono 800 sono qualcosa meno, ma io sinceramente li vedo, c'è la differenza da quello sinistra a quello di destra, la vedo. Andiamo a spegnere un attimino questo film e torniamo nelle home page relative appunto alle due TV, quindi la Fire TV Stick piuttosto che il dangle inserito all'interno, e come vedete, dai, sono entrambi abbastanza veloci. Ma guardate anche riproducendo lo stesso film, ho messo Oceania così in qualche secondo giusto, per dire guardate la luminosità di destra e guardate la luminosità di sinistra, completamente, completamente diverse. Nonostante tutti e due sono veramente molto ben luminosi, ma come vedete differenza si vede assolutamente. Bene ragazzi, durante la comparazione sembrava, sembrava che gli 800 lumen non fossero tanto più luminosi dei 500, poi verso la fine, guardando bene, mi sono reso conto che effettivamente è un bel po' più luminoso il K2S. Ma nota dolente, qual è il prezzo di questo proiettore? 498,90 euro circa su Amazon, e in questo momento potete cliccare un coupon sconto che c'è direttamente sulla pagina del prodotto di 120 euro. In più, beh, vi do io un 10% di sconto, che ve lo lascio qui sotto, me l'ha fornito Yaber, quindi potrete comprare questo proiettore oggi, quindi in questo momento a 330 euro circa. Mi sembra davvero buono, considerando il d'angolo integrato, considerando tante cose in più che sono state aggiunte, considerando anche che oggi il V9, modello precedente, costa su Amazon circa 200 euro, ed è appena sceso, era intorno ai 300, ora è sceso intorno ai 200. Beh, dato questo, vi ho dato anche il prezzo, io vi saluto l'appuntamento del prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube, mi raccomando, iscrivetevi se non lo siete, perché arriveranno nuovi, nuovi contenuti, quindi iscrivetevi, accendete la campanella, e se mi lasciate anche un bel like, io sono davvero tanto, tanto contento. Ciao a tutti! Ciao a tutti!